Emanuela De Nicolis è la candidata per il centrodestra alla carica di sindaco di San Salvo. Allora, com'è nata questa candidatura e come procede oggi in inaugurazione anche della sede elettorale? Sì esatto, tante persone già vedo qui presenti, ringrazierò tutti singolarmente a breve, ci sono anche molti amministratori pubblici che sono venuti qui a salutarci oggi, dei paesi limitrofi, quindi io li ringrazio profondamente per la visita che ci faranno stasera. Tra un po' arriveranno anche tanti altri personaggi, ci sarà anche Tiziana Magnacca e il presidente del Consiglio, Eugenio Spadano, tutti stretti intorno alla figura di Emanuela De Nicolis. Sì, senz'altro ci sono loro, sono previsti due interventi sia del sindaco Tiziana Magnacca che del presidente del Consiglio, Eugenio Spadano, poi ci sarà il mio intervento in cui spiegherò le ragioni di questa candidatura, cosa mi ha mosso a dare la mia disponibilità per questa candidatura.